Le prospettive dell'edizione, la domanda provocatoria mia è quanto può durare il lavoro degli storici per rendere disponibile al grande pubblico tutte le lettere di Rosmini? Beh, mi inserisco nel discorso che è stato fatto nella prima relazione di questo pomeriggio da padre Muratore. Beh, questo è il primo volume, il secondo volume è in bozze, il terzo volume lo stiamo preparando, ha detto il padre Muratore per l'anno prossimo uscirà e fin qua, diciamo così, speriamo di poterci arrivare e quindi in qualche modo sapete bene che in questi volumi, lo dico anche per il pubblico che qui mi ascolta, magari non tutti conoscono le opere di Rosmini dell'edizione nazionale, in fondo, in fondo al volume, c'è lo schema delle opere complete. Ecco, voi vedete il piano dell'edizione che è stato rispettato, vedete che i volumi ancora da pubblicare non sono moltissimi e in fondo, in fondo, ultimo appunto, lettere sotto la direzione generale del professor Ottonello e quindi vedete insomma che sono finora previste le prime tre, 61, 62 e 63. Ecco, che cosa potrà succedere quando avremo, saremo riusciti a presentare anche il terzo di questi volumi? Padre Muratore ha fatto riferimento a riflessioni interessanti e certamente anche così, che potrebbero consolarci, no? Dice, beh, vedrete che qualcosa succederà, poi alla fine. Io allora prendo la posizione di chi non è né troppo pessimista, però neanche troppo ottimista. Mi piace che non ci sia Padre Muratore qui presente perché avrei da rivolgere anche all'Istituto della Carità, però attenzione, questa edizione nazionale, scusate, che pubblichiamo, è un'edizione nazionale, non è un'edizione rosminiana, facciamo attenzione, perché questo è molto importante, diciamo così. Padre Muratore, come direttore del Centro Internazionale dei Studi Rominiani, che è una struttura un po' laica e un po' legata anche all'Istituto della Carità, ha ragionato in una sua ottica, io ragionerei nell'ottica laica. Questa è un'edizione nazionale che è stata fatta propria dal Ministero dei Beni Culturali. Cioè, il Ministero dei Beni Culturali, bontà sua, diciamo così, ha nei suoi fondi, grazie a Dio fino adesso ancora, del denaro per rendere possibile queste pubblicazioni. Non è che, diciamo così, una sostituzione degli appassionati fa nascere queste cose, ma un contributo dello Stato, attraverso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, che è stato, lo chiamiamo l'Istituto Castelli, perché è stato fondato da un grande studioso, un grande benemerito della cultura e della filosofia italiana, cioè Enrico Castelli Gattinara di Zubiena, se vogliamo essere, per esempio, un nobile, un'anima veramente importante. A lui dobbiamo, le edizioni nazionali, parte di Rosmini, ma soprattutto quella di Gioberti. E i classici del pensiero italiano. E i classici del pensiero italiano, ragazzi. Allora, diciamo così, questa è un'edizione nazionale. Questa quindi, ancora, ancora di questa edizione, si ricordano gli uomini della politica, si ricordano i burocrati del Ministero dei Beni Culturali, e ogni tanto, quando, diciamo così, padre Muratore, si mette in contatto con il professor Valenza, che è il direttore di questo istituto, che ha il rapporto privilegiato con il Ministero dei Beni Culturali, scusate se dico queste cose, ma sono cose da capire, perché, insomma, allora ecco che il Ministero dice, benissimo, allora adesso vi rimborsiamo della spesa che avete sostenuto per questo volume. E quindi, un paio di volumi all'anno l'edizione nazionale, programmata, no? Produce, no? E quindi, ecco, questo è il primo, credo sia il primo volume, no, cioè il secondo volume del 2015. Adesso, il primo volume del 2016 sarà appunto il secondo volume, il numero 62, il primo volume del 2017, sarà il numero 63. Il secondo volume del 2016, non lo so, pare che a Stresa stiano lavorando in questa direzione. Qui non c'è padre Muratore da confermarci, ma non è venuto neanche qui il dottor Francesco Savoale, Francesco Stadini, che diciamo non era potuto venire, aveva impegni personali, a dirci che cosa appunto intendono fare successivamente, e così via. Qui io sono solo per cercare di farvi capire che cosa possiamo aspettarci dopo il terzo volume. E allora, a questo punto, io ho fatto un... Qui magari... Ecco, non c'è l'accelo, c'è l'accelo, c'è l'accelo, c'è l'accelo io. Ecco qua. Vedete che bello? Questo è il Tempio della Sagrada Famiglia. Il Temple Expiatori, dicono i catalani, è stato pensato nel 1882-83 da una congregazione religiosa che si è affidata al grande architetto catalano, Anton Gaudí, il grande architetto della Catalogna. Adesso, attenzione, faccio un ragionamento che potrebbe... e faccio anche un confronto tra quanto stiamo facendo noi e questo Tempio. Nato nel 1883, la prima... La pietra angolare è nata, è stata apposta nel 1883. Gaudí ci ha lavorato moltissimo. Questa è la porta della natività. Questa è la porta della natività. L'ho visitata nel 1982, fate voi, eh, tanti anni fa. E nell'80... Più di tanti anni fa. Nell'82 poco di più c'era di questa. Più o meno la situazione che vedete adesso. Ma in realtà, nel 2010, durante un suo viaggio in Catalogna, Papa Valdetto XVI ha consacrato il Tempio come Basilica minore. Il Tempio non è ancora completato, però, rispetto all'82, 83, sono stati fatti dei passi avanti notevoli che mi hanno stupito. Io avevo visto il plastico di questo Tempio, di questo grandioso Tempio, di questo grande architetto, e mi ero chiesto ma lo realizzeranno mai questo Tempio? È al 75%, mentre quando l'ho visto io era al 25%. Beh, insomma, sono andati abbastanza avanti. Perché? Perché c'è stato un soprassalto d'orgoglio. Perché ci sono stati degli sponsor. Perché i catalani adesso vogliono contare qualcosa. Non è che sia tanto semplice la situazione politica in Catalogna, perché c'è una forte spinta autonomistica. E Gaudì è uno di loro. Cioè, non si sentono spagnoli, scusate se ve lo dico, ma si sentono catalani. perché quella parte dell'attuale Spagna, diciamo così, è storicamente una sua storia. Ma non è la stessa cosa che la Padania o queste cose qua. È molto più seria la faccenda. Quindi, attenzione. E quindi, loro hanno voluto questo Tempio, perché è il loro Tempio. Allora, scusate, io vorrei dire che vado al sodo. che cosa possiamo pensare se volessimo istituire un raffronto tra il Tempio che si dovrebbe costruire diciamo così, pubblicando le lettere di Rosmini, cioè questo edificio diciamo, delle lettere che va dal 1813 al 1855. No? Perché, attenzione, le lettere dopo il 1824, data finale, dopo il primo geniale del 1825, sono ancora di più. Ci sono eventi importanti della vita di Rosmini come la Fondazione dell'Istituto della Carità. C'è, come abbiamo visto prima, il Nuovo Saggio. Ci sono tutte le lettere che precedono il Nuovo Saggio da cui tu hai attinto, no? E poi, successivamente, c'è quel decennio meraviglioso in cui i principi della scienza morale, la polemica col Mamiani, la storia critica sul principio intorno al principio della morale e poi la filosofia della politica e il trattato della coscienza morale è un decennio favoloso, più l'approvazione dell'Istituto della Carità nel 1839 e le lettere fioccano. Ma nel mille, con l'anno 1834, attenzione, cessa l'ombrello, l'ombrello protettivo di Cirillo Bergamaschi di cui ci hai parlato. Il grande Cirillo Bergamaschi che a Stresa non è potuto venire che è il bibliotecario emerito del Centro Internazionale di Studi di Rosminiani che ha lavorato moltissimo dal punto di vista di la bibliotecario di Rosminiana e continua anche a lavorare diciamo così e che ha lavorato anche con qualche imperfezione ma ha lavorato sodo, veramente sodo. Allora, il catalogo del carteggio del 92 seguenti è un catalogo che ci porta fino al 1834 che vuol dire che noi lavorando con Stefania e con tutti gli altri siamo andati sul velluto. Vero, Paolo? Cioè abbiamo avuto adesso manca, qui non è venuto ci dispiace molto diciamo Simone Rosveduschi che è diciamo novizio rosminiano che studia teologia a Milano adesso e non è potuto venire perché è impegnato negli studi teologici e quindi non l'ho visto ma lui è stato l'iniziatore del catalogo che noi che abbiamo chiamato con una parola così olistico cioè il catalogo di tutto ciò che riguarda le lettere cioè abbiamo un catalogo noi nel nostro materiale no? in cui lo possiamo clicchiamo e troviamo una lettera la troviamo qua quando è stata se quando è stata pubblicata quanti sono gli esemplari di questa lettera quando è citata eccetera eccetera il catalogo che grazie alle cure di Stefania Zanadi dopo che Beduschi è andato al monte Calvario di Domodossola per farsi rosminiano ci ha lasciato praticamente ha scelto la vita religiosa rosminiana e lì i rosminiani hanno detto chiaro e tondo no adesso tu non ti occupi più di rosmini tu ti occupi di cercare di entrare nello spirito di rosmini e di istituto la carità quindi lui è fuori ma tornerà però dentro ha preso anche il dottorato l'anno scorso diciamo da noi qui a Genova con una tesi sulla laurea di rosmini sul tesi di laurea di rosmini adesso speriamo che tornerà in funzione ma per il momento sta formandosi come religioso e quindi il catalogo olistico è nelle mani di Stefania Zanadi ma siamo arrivati al 26 col catalogo olistico approfittando attenzione racconto un po' perché qui vedo anche l'autoressa Pollio che ringrazio molto per il lavoro che ha fatto con noi per un certo tratto che abbiamo fatto insieme grazie molte cara Patrizia ecco e qui non vedo gli altri ma tutte le persone che hanno lavorato con noi per un tratto di strada e centralmente Natascia Poloni per dire la signora pressa della biblioteca di Rosminiana di Rovereto ecco queste sono le persone il professor Marcello Bonazza che è uno studioso di archivistica dell'Accademia degli Agiati di Rovereto che abita a Trento tutte le persone che ci hanno dato una mano perché qui c'è il lavoro anche del dizionario dei corrispondenti che abbiamo voluto porre alla fine del primo volume che poi sarà alla fine del secondo ogni volume avrà il suo dizionario dei corrispondenti di cui trovate la biografia e la bibliografia di ogni corrispondente di Rosmini per quello che abbiamo potuto trovare di notizie non tutti i corrispondenti di Rosmini sono allo stesso modo noti per cui abbiamo anche dei corrispondenti o persone citate nell'epistolario di cui non sappiamo nulla o quasi abbiamo dovuto ammettere signori i trentini ci hanno dato una mano per sovornanza soprattutto a fare delle ricerche particolari ricercando anche scovando fuori su internet con tutto quello che c'è su internet di tutto e di più non abbiamo trovato nulla ammettiamo di non sapere nulla della ditta x y o del signor tale o del signor tal altro ma è della verità che le ammissioni di impotenza sono state abbastanza poche ecco direi questo allora torniamo al discorso che vogliamo vogliamo costruire vorremmo costruire un grande edificio diciamo di questo epistolario che è composto dalle lettere di Rosmini e lo spazio lo spazio diciamo così architettonico dentro questo edificio sono le idee scusate questa immagine che circolano dentro le idee che vengono veicolate da questo da questo grande spazio diciamo delimitato dalle lettere di Antonio Rosmini dalle diverse lettere e ripeto dopo il 1834 noi non abbiamo il catalogo del carteggio di Rosmini ed è un grosso problema ed è un grosso problema perché che per fare il catalogo del carteggio alla pari di quello che l'ha fatto il Cirillo Bergamaschi il grande Cirillo che ha avuto l'aiuto anche del vecchio archivista Luca Lanner che ha passato tutta la sua vita Luca Lanner negli archivi di Rosmini vivendo in simbiosi con le lettere di Rosmini e con i documenti dell'istituto della carità se non c'è un personaggio o personaggi di quel tipo il catalogo del carteggio non si fa il professor Tonello assente o assentisce allora sentite qui siamo di fronte a questo fino al 1934 ci arriveremo poi bisogna istituire sarà quindi il centro internazionale che deve fare perché tra biblioteca diciamo così e archivio chiamato qui ASIC ASIC che non è quella marca di Berretti eccetera eccetera è ASIC archivio storico per l'istituto della carità ecco cioè se non si fa all'ASIC e alla biblioteca di Rosmini un gruppo di lavoro o se non si dà a noi l'incarico di farlo diciamo ospitandoci stabilmente a Stresa per almeno due o tre mesi all'anno non se ne va fuori quindi io dico che alla ronda mi spiace non c'è padre muratore che nonostante che sia così semplice è veramente un dittatore su queste cose è un veramente e ci vuole no è un uomo che lavora ecco sì sì no no in questo senso il padre muratore non sgarra e io sono contento di questo questo fatto però se non c'è da parte loro l'istituzione di un lavoro di un gruppo di lavoro in questo senso e se non si trova quindi un finanziamento per questo credo che noi non possiamo fare niente ma non è finita non è finita perché il catalogo olistico riguarda le lettere diciamo rosminiane e soprattutto le lettere presenti nel ASIC ma ci sono come ha detto anche padre muratore le lettere in originale inviate da rosmini e che potrebbero essere recuperate e qui l'edizione rosminiana ha un carattere molto importante cioè grazie all'accuratezza con cui rosmini ha tenuto tutte le lettere in spedizione che ha spedito grazie al fatto che per il 90% le lettere spedite sono in archivio in copia e a volte sono state scritte da rosmini o dettate da rosmini e corrette da rosmini e poi sono state dettate nuovamente alla manuense al segretario e firmate o una parte delle lettere non sono scritte direttamente da rosmini ma sono copiate dall'originale scritto da rosmini che rimane in archivio quindi la minuta rosminiana è molto più importante per certi versi della copia che è stata fatta con la firma autografa di rosmini e quindi abbiamo una serie di problematiche su questa situazione poi ci sono anche copie che rosmini come abbiamo detto prima riteneva che alcune sue lettere fossero importanti da pubblicare anche indipendentemente dall'essere tenuti in archivio da pubblicare anche ecco che ci sono le copie ma questo è più un carattere di queste lettere giovanili le lettere giovanili hanno tutte una copia che serve a rosmini per poter servire per poter fare una edizione particolare poi non è stata fatta in molti casi eccetera dopo il 1824 25 quindi dopo il 25 quando noi andremo verso il quarto volume le lettere diciamo così in qualche modo in copia in copia duplice sono poche quindi abbiamo solo le lettere però se ci capita e qui abbiamo sperimentato si capita di fare delle sondaggi anche abbastanza modesti moderati presso archivi di città di regioni varie d'Italia noi troviamo lettere rosminiane possedute da privati possedute da archivi che sono finite attraverso l'ultima diciamo ritrovamento è stato quello che ho fatto io alla biblioteca apostolica vaticana 25 lettere del fondo patetta cioè di un signore che faceva di suo lavoro appassionato delle lettere non solo di rosmini il raccoglitore degli autografi dei grandi personaggi dell'ottocento 25 lettere di rosmini di cui nuove 4-5 in originale tutte evidentemente quindi capite abbiamo avuto tutte le lettere di rosmini in originale confrontate quindi con le copie che avevamo già e un 4-5 lettere nuove che non c'erano nell'archivio ASIC perché non erano state copiate perché è successo anche questo che molte che alcune lettere non molte alcune lettere non sono state copiate o sono state smarrite le copie cosa probabile perché gli archivi gli archivi rosminiani hanno avuto anche una storia di trasferimenti eccetera eccetera ecco capite la problematica e poi adesso cerco di arrivare al dunque la nostra grande costruzione diciamo così delle lettere di rosmini diciamo così si trova di fronte adesso a una problematica fondamentale che cosa è meglio pubblicare le lettere di rosmini e dei suoi e dei suoi corrispondenti che sono altrettante se non più le lettere di rosmini o limitarci alle sole lettere di rosmini perché il problema ovviamente è che quanto ci ha riferito questa mattina nel raffronto tra le lettere di rosmini giovane e le lettere di leopardi giovane noi abbiamo che le lettere di leopardi pubblicate nel 98 in occasione del bicentrario della nascita di leopardi sono pubblicate accanto alle lettere dei corrispondenti cioè sono 900 lettere di leopardi e altrettante dei suoi corrispondenti per un totale di circa un 2000 lettere e tutto lì e tutto lì cioè il corpus delle lettere leopardiane diciamo così è vero che leopardi è vissuto molto meno di rosmini però non c'è proporzione evidentemente faccio un esempio di altri diciamo epistolari per esempio prendiamo l'esempio di un di un laico di un pensatore laico dell'ottocento cioè Bertrand spaventa spaventa considerato diciamo così diciamo idealista diciamo così studioso anche lui di rosmini eccetera eccetera una personalità notevole nell'ambito del pensiero neo-egheliano e-egheliano del 800 in Italia beh è stata fatta un'edizione delle prime lettere diciamo così intorno fino al 1845 50 non so circa e adesso adesso nel 1000 nel 2017 in occasione del secondo centenario che ricorda la nascita di spaventa chietino e così via ecco in quell'occasione si farà l'edizione di tutte le altre lettere cioè ci si tiene molto ad avere questi epistolari quindi vedete non è che il nostro lavoro sia qualche cosa di assolutamente infondato anzi per gravidare ma le lettere di spaventa potranno essere 300 400 quante potranno essere ecco come vedete non c'è nessuna proporzione faccio un ultimo esempio di un qualche cosa che è già consolidato cioè prendiamo delle lettere di Vincenzo Gioverti l'avversario degli anni 40 filosoficamente l'avversario di Rosmini e poi invece quasi quasi schierato al suo fianco nelle questioni della Confederazione Italiana nel 48-49 beh il Gioverti diciamo così Gentile ha promosso l'epistolario giovertiano negli anni 30 eh gli anni 30 ha promosso tra gli anni 20 e gli anni 30 la pubblicazione con l'aiuto del grande studioso Gustavo Balsamo Crivelli ma questi sono 11 volumi ma sono 11 volumi quindi insomma fate voi eh di lettere di Gioberti quindi noi invece e qui cominciamo a dare i numeri no invece se noi facessimo un semplice raffronto diciamo così eh sui numeri i primi tre i primi tre volumi su 500 500 lettere primi tre volumi 500 lettere no Stefania lo sa il numero esatto ma comunque è scritto è scritto anche nel nella 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 introduzione del secondo volume che andiamo a pubblicare sono 500 lettere e sono pubblicate entro in tre volumi fate voi conto e siamo diciamo così a una stima non è ancora possibile visto che non c'è il catalogo del carteggio diciamo presente una stima di 9000 10.000 lettere nel sull'avvenire di alcuni anni fa Roberto Cutaia che ha scritto anche una presentazione di questa nostra edizione l'altro giorno su avvenire eh dice parla parlava due anni fa di 11.000 lettere non siamo convinti che siano 11.000 o meglio sì probabilmente in Asic o in ci sono 11.000 esemplari delle lettere di Rosmini ma siccome ci sono ancora delle lettere doppie ci sono delle coppie non penso che le lettere da pubblicare supereranno a mio avviso 9.000 ma vedete ma capite voi insomma no quanto quanto lavoro c'è se non si organizza se non si organizza un bel diciamo eh gruppo di lavoro se non si finanziano i giovani che dovrebbero lavorare su questa su questa edizione se non si dà anche e questo è la lenta nota se non si dà anche valore al lavoro di questi giovani studiosi ricercatori che da un punto di vista agguerriti filologicamente diciamo recuperano queste lettere le rendono disponibili le commentano diciamo così e rilevano anche tutta una serie di problematiche e così via e naturalmente non possono questi giovani studiosi qui parlo anche di Zanardi e di quelli che mi hanno aiutato anche non possono prescindere da un controllo anche sulle lettere dei corrispondenti evidentemente cioè noi abbiamo dovuto leggersi quasi tutte le lettere dei corrispondenti per capire bene e per seguire o comunque controllare tutte le lettere come è scritto in fondo ad ogni lettera in una specie di diciamo così di repertorio che noi chiamavamo Tamburo ma che poi invece la casa di Diccio ha preferito non chiamare così lo chiamavamo Tamburo non so perché c'era una tradizione filologica parlata di questo insomma quello che sta scritto in fondo ad ogni lettera è un po' il riassunto di quello tratto dall'olistico di quello che una lettera è se è stata pubblicata o no e dove è stata pubblicata a quale lettera risponde di quale interlocutore di quale qui c'è tutte le indicazioni archivistiche anche delle lettere dei corrispondenti quindi un lavoro si è fatto e si è potuto fare grazie al catalogo del carteggio quando il catalogo del carteggio ripeto non proteggerà più il lavoro degli studiosi sa prima prima di tutto sarà da fare il catalogo del carteggio allora io ho già proposto ai padri Rosminiani a Stresa all'archivio beh incominciate adesso a lavorare per il catalogo del carteggio cominciamo già adesso a fare questo lavoro perché poi intanto incalzeranno gli studiosi che vorranno bisogno di questo catalogo da 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 operare ecco la situazione è questa l'immagine di questa bellissima sagrada famiglia che sta per essere completata diciamo così è bellissima non si può fare un tempio più grande di questo che è grandissimo quindi nel confronto insomma non possiamo questo tempio farlo con le lettere anche di corrispondenti cioè le strutture sono solo le lettere rosminiane mentre i corrispondenti devono restare fuori dal tempio ecco in questo senso diciamo così ma questo tempio se ci sarà lo stesso slancio lo stesso interesse che hanno dimostrato i catalani per la loro chiesa ci sarà questo slancio questo interesse nel mondo cattolico e nel mondo della cultura diciamo aiutando la formazione di questo gruppo di giovani competenti allora si potrà fare se no altrimenti i tempi saranno talmente lunghi da essere disperanti io personalmente sono un po' angosciato non credo che vedrò molte di queste molti volumi non so dico riuscirò a vedere il 65esimo? mi sto domandando così quante sono tutte nei tre volumi le lettere? nei tre volumi si arriva alla 599 599 ho detto per difetto ho detto per difetto sono 600 quasi 600 lettere ecco capite ma 600 lettere e tre volumi quindi insomma speriamo ripeto la la determinazione con cui diciamo quel tempio lo stanno portando avanti diciamo così secondo me è veramente significativa è un esempio uno sprone noi che facciamo un'edizione molto modesta di lettere ma che vorremmo che questa lettere fosse un edificio quasi da costruire speriamo che per noi anche per noi ci sia un aiuto e ci sia uno slancio un rinnovato slancio perché vi devo dire anche un'altra cosa non è finita Rosmini ha bisogno per essere sempre più riconosciuto nella sua grandezza anche che gli tolgano di dosso tutta una serie di luoghi comuni che hanno continuato a e che ancora ci sono non dovete dimenticare che seppure il primo di luglio del 2001 una nota della congregazione per l'ottima della fede ha riconosciuto che la condanna delle sue 40 popolizioni va interpretata in un modo che non lede affatto l'ortodossia degli intenti di Rosmini e del suo pensiero però le vicende complessive della persecuzione e delle lotte contro di lui le vicende complessive vanno ancora chiarite c'è da chiarire per esempio il famoso esame delle opere che sotto Pio IX tra il 1851 e il 1854 venne condotto è ancora tutto inedito ancora tutto da chiarire è una storia intricata che è un capitolo della storia della chiesa cattolica anche e del pontificato di Pio IX anche su quello ci stiamo impegnando vediamo un po' e ho detto al professor Tonello caro Paolo se non daranno più denaro da quella parte cioè dalla parte dei finanziatori mi dedicherò all'esame delle opere farò qualche viaggetto a Roma più simpatico forse e vado in Vaticano a cercare le lettere io non posso che ringraziarvi ringraziare la fondazione Cassa di Risparmio che vuole che la ringraziamo che ci ha dato il denaro perché anche qua parliamoci chiaro l'Istituto della Carità ha finanziato la fondazione Cassa di Risparmio ha cofinanziato l'Università di Verona col professor Marco Lungo ha cofinanziato la seconda trans del lavoro e l'Università di Trento ha cofinanziato la prima parte del lavoro cioè negli anni 2010-2014 noi stiamo ancora completando i lavori avviati con questi due finanziamenti adesso le casse sono vuote adesso il piatto piange come si dice e siamo in attesa di vedere come andrà a finire grazie a tutti